Per me la musica è il nostro punto di unione, come dovrebbe esserlo il diritto alla vita. Visto che adesso stiamo vivendo un momento di separazione, la mia voglia era di mandare un messaggio di unione tra i popoli. Scegliere questo luogo qui ha avuto questa importanza. L'aspetto più complicato è stato spedire il piano in Giordania. Diciamo che appena superato quello scoglio lì, il resto è stato un po' più in discesa. La collaborazione con Andrea in realtà risale a diversi anni fa. Quando lui ha voluto inserire il violoncello nel suo nuovo brano, ha deciso di chiamarmi. È una collaborazione che nasce comunque da un'amicizia che c'è da diversi anni.